Carne comprata all'estero, mai pagata e rivenduta illegalmente sul mercato italiano. Una truffa da un milione di euro su cui hanno indagato i carabinieri e la procura della Repubblica di Piacenza che ha portato all'arresto di sei persone e alla denuncia a piede libero di altre cinque. Tra questi due imprenditori di Piacenza e Castelvetro e altri residenti a Crema, nel Lazio e in Spagna. Si tratta di un'indagine lunga e complessa iniziata alla fine del 2011 e che conclusasi nelle scorse settimane è probabile che approdi presto in un'aula di tribunale. Notificato l'avviso di conclusione indagini alle persone coinvolte nell'inchiesta, dovrebbe essere fissata a breve la data dell'udienza preliminare. Secondo l'accusa, gli indagati si spacciavano per titolari di ditte realmente esistenti e facevano grossi ordinativi falsificando documenti di trasporto e fatture. La merce veniva poi rivenduta in particolare in Campania. L'attività investigativa è iniziata nel novembre del 2011 su iniziativa dell'Interpol e dell'ambasciata italiana Varsavia, che segnalavano la denuncia per truffa di un imprenditore polacco del settore della macellazione bovina. Nella denuncia si parlava di una spedizione di carne destinata ad un magazzino del Piacentino. Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza e dirette dal pubblico ministero Michela Versini, si sono avvalse di centinaia di ore di intercettazione di linee telefoniche, fax e internet, di servizi di appostamenti e di accertamenti che hanno toccato numerose province. Grazie.